Ah, è l'oggi che è bello! Tu vada, che terrestre! Sì, sono fuori, che가 dovrì! All'aricione, un'aricione, un'aricione! Vorrei farlo per noi, quali? Non lo so, non lo so, non lo so Ni valorare la scuole, non lo so Non hai bisogno che, oltre le scuole Puglia lunga via, come l'anno padova le schiatterelle, tutti e due, e anche un puglia lungo. Colino mi dice, ora trasciamo dopo la processione, ci sento sto scuro, che pò dire? No, no, le traduzioni, non c'è c'è niente, le mattinelle, non voglio dire i miei bambini, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Le attire è piatto! Non vale bene va. va bene va va bene grazie 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 Sì, sì! Sì, sì! 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 Sì!